Chissà, forse tuttora Non sarebbe più semplice chiamare Bella a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Dal vostro The Batman, il cavaliere oscuro di Youtube Per questo nuovo gameplay di Marvel Spider-Man Miles Morales Qui su Playstation 5 Continuiamo il nostro gameplay Allora vediamo un po' Apriamo il nostro smartphone Vediamo, abbiamo furto di giocattoli Qui, poi c'è camion bloccato Oppure c'è Non trovo i piccioni Eppure c'è la gru bloccata dal ghiaccio Io farei la gru bloccata dal ghiaccio Che rischia di schiantarsi al suolo Facciamo questa missione, vai La gru è ghiacciata e potrebbe cadere L'area va sgomberata Ah però c'è un indicatore di missione Fammi vedere un attimo Aspetta, allora Questo è l'indicatore di missione Esatto C'è una missione primaria E quelle sono le missioni secondarie Ok, allora no, niente Continuiamo le missioni primarie Con il nostro nuovo costume Come vedete ragazzi Nero e rosso Veramente spettacolare La bottega è sbarrata Spiace Vedela così Devo sgattaiolare dentro Senza attirare l'attenzione Ma come? Trovo un ingresso E da lì Per trovare una finestra aperta La finestra aperta ci sarebbe Beh, allora Dov'è, 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 dov'è Dov'è, 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 dov'è Dov'è la botteghina? Eccola lì Mio figlio Ci siamo Ehi là Cavolo quanta polvere Ne ha abbandonato da anni Cerca delle prove Ok Qualcuno ha lasciato la luce a un cibo Fine io abbiamo passato un'intera estate Ad aiutare Rick a sistemare vecchie chitarre Era un vero mago Io e Finn giocavamo sempre a nascondino Era un mondo tutto nostro I testi universitari di Rick Frequentava i corsi serali e gestiva la bottega durante il giorno Era inarrestabile Qui le luci sono accese Dice qualcosa di interessante Esatto Il badge di una certa Ella Sterling Ma la foto è quella di Finn Qualcuno ha aiutato Fine a infiltrare Sì, Ella ti somiglia tranne i capelli forse indossando un berretto Qua cosa c'è? Una sorta di medicinale GCSF GCSF Serve a stabilizzare il midollo osseo E che può essere? Un mistero si infittisce C'è qualcosa qui dietro Ok Una vera stanza segreta Attenzione Una stanza nascosta Questa che cosa Eccola la maschera Progettato le armi E' la maschera di coso? Di Tinker Lì Entrambi ora indossiamo maschere Eh già E' la maschera E' la maschera della nostra amica Mascherata Eh già Abbiamo scoperto il suo Filmato Di sei mesi fa Eseguo una prova di caricamento Metà di noi sta male Ma Krieger Non ammette che è il non forma Agiremo stanotte Lascia Ecco per chi era la siringa Siamo già pronti Dobbiamo Oggi hanno iniziato gli scavi In anticipo Avvelenare una città per soldi Ignorano qualunque regola Soprattutto sulla sicurezza In questo modo Tradiscono il mio lavoro Ok Prima svuotiamo il nucleo Poi cancelliamo i dati Sei sicuro che dopo Non potranno produrne dell'altro? Non possono Se eliminiamo anche Le scorte di emergenza Nel Jersey Sono l'unico A sapere come funziona Il non forma Il progetto Affonderà Registro tutto Se va male Il video finirà dritto al bugle Perfetto Pronta a salvare New York? Pronta C'è un altro video Dannazione Non carica Il telefono è danneggiato Non permetterò che sia stato tutto inutile Te lo prometto Rick Stavano provando a fare chiudere il progetto del Nuform Ma qualcosa non è andato L'ultima posizione del telefono Se lo trovassi Non va bene Sarò là Forza 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 Vente invisibile dai Eh vente invisibile Andiamo È qui È qui Che farino? Non deve scappare È sparito Può sparire Cosa sta succedendo? Scomparire davanti ai loro occhi E li ha terrorizzati Non appena i cecchini si rilasseranno Potrò eliminarli dall'orto Devo avere attivato un allarme silenzioso Tracciamo i nemici Premi su per attivare O disattivare l'occultamento Ah vedi Il tasto su è l'occultamento Allora della nanna Mi hai fatto prendere un colpo La scuola di danza Organizza uno spettacolo A giorno A giorno Devo essere più veloce Ehi Flory dove sei? Qualcuno vada a dare un'occhiata Più siamo Di là pezzi di merda Ehi via le armi Non puoi batterci Non da voi Non da voi Sono pochi sul chiedere Devo lasciare che si calmino Prima di poterci riprovare Ok riproviamo Vieni fuori a combattere Più facile del previsto Dai zitto E va al tambito Ehi Joe Come va? Ehi Qualcuno vada a controllare Joe Non rispondo Ci penso io Vado Chissà come mai Dai Ciao Spiderman Ben Mi faccio? Penc convinti Stai finito, Spider-Man! Stai! Facuto, vedi? Perché non si avrai? Sì, vai! Sembra doloroso! Troppo colpito! Ok, torniamo al computer Se riesco a trovare il telefono di Finn Forse posso capire cos'è successo a Rick E come è nata Tinkerer Ecco, ho la posizione Devo chiamare Genki e aggiornarlo Ehi, trovato nulla nella bottega di Finn? Sì, so perché sta facendo tutto questo È successo qualcosa a suo fratello Qualcosa di grave Oh, cavolo Rick lavorava alla Rockson Era il loro scienziato capo sul Nuform Wow E pare che il Nuform l'abbia fatto ammalare Simon Krieger si ostina a ripetere che è sicuro Sta mentendo Finn e il fratello hanno provato a sabotare il prototipo del reattore Per impedirne lo sviluppo E poi? Non lo so Non ancora Finn ha registrato tutto con il telefono Ma lo ha lasciato nel laboratorio Sto andando a recuperarlo Aspetta, fammi vedere che c'ho qualche abilità da sbloccare Ora vediamo che posso sbloccare Posso sbloccare questo Adopo la durata dello stordimento Sennò c'è anche questo Gli attacchi consumano l'occultamento In misura ridotta Eh, magari anche questo Sennò ci sarebbe Nemici storditi Questo che è il pugno Ah, ok Io aumenterei Questo qui Lo stordimento Dello occultismo Perfetto I gadget Vediamo un po' Se c'è qualche pensamento per i gadget Modifiche del viso Vediamo un po' Modifiche Due, che cos'è Hai sbloccato un nuovo slot Modifica costume Scanzione dei mici Per vederli anche dietro i muri Mantenerli contrassegnati In che modalità furtivo E' attiva Se no c'è incrementa la finestra Nel problema delle schivate Vabbè, posso prendere solo questo C'ho questo Questo e qui c'è Vabbè, riducere i danni qui Ah, ci posso mettere altro Tipo questo Ok Perfetto Beh, io sono qui Chiamati Ricevuto Ricevuto I laboratori Rockson È qui che la ricerca sul Noform Ha avuto inizio Il telefono di Finn è lì dentro E ora so anche come entrare Eh, da lì È già Ma bisogna arrivarci Io di certo non mi l'accordo Scudo elettrificato nel condotto Cosa lo alimenta? Ora devo disattivarlo Esce E dove è sto cazzo? Ah, c'è una specie di scudo Eh, ma lo scudo Eh, lì Ma fin Eh, no Chissà se qualcuno di quei mercenari Si farà fuori Ehi Eliminiamo il bersaglio Ce l'ho nel merino Non fa resistere al lungo Olco pulito Ok Ora non mi resta che entrare Perfetto L'assorbimento La Scudo Tolto Non pensavo avrebbe funzionato Le due ore due Proiezioni a condotto Vai Il ragno si infiltra Ah, ok Ce l'ha detto Irrompere in un laboratorio Pieno zeppo di guardie armate Decisamente non è il solito Natale Dovrei essere a casa a dormire A giocare a un sacco di videogiochi E rimpinzarmi di biscotti Fino a scoppiare Invece Dove si va? Ehm Va a capire dante falta Deve se contiene passare Da qui? O D'o 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 laboratorio e al reattore. Il reattore del nuforo? Stando ai progetti, sì. Ah sì, è lassù. Per te. Allora. Ehi, dov'è il nuforo che ho chiesto? Eh, cerchiamo di produrlo, ma Mason non ha lasciato appunti. E? Beh, ho saputo che una capsula di nuforo è sopravvissuta al disguido del ponte. Ecco, se avessimo quella... Se l'avessi, te l'avrei data. Non credi. Certo, signor Krieger. Dico solamente che senza quella capsula non potremmo rispettare le scadenze. Facci. Tutte le mie non poche risorse sono impegnate nella ricerca della capsula. Tuttavia, adesso, apprezzerei che tu tornassi in laboratorio per fare... Il tuo lavoro. Krieger ha poco tempo. Di chi è il telefono che stai cercando? Gli uomini di Tinkerer. Posso sapere perché mi stai pedinando? Per proteggerti. Dovresti essere lusingata. Sono tornato in attività solo per te. Non riesco a credere che mio zio sia buono. E io non riesco a credere che mio nipote rischi il collo per un teleno. Andiamo avanti. Non ci fai vicino al prototipo del reattore. Togli di mezzo i soldati. È una fregatura lavorare al reattore. L'ultimo di guardia qui, tu si va come un danno. Chissà quanto prenderei tra assicurazione e malattia. Conoscendo la Roxxon... Oh, comincio la ronda. L'està, uomo a terra! Divertente. Un altro trionfo per Spider-Man! Ho sentito qualcosa. Vai, vai, vai a vedere che succede. Vai a vedere, tonto! Forse abbiamo unito. Giù in si parla. Ottimo lavoro. Grazie. Il silo si trova oltre quella barriera. Usa il terminale per aprire. Ecco il terminale. Aspetta. Ci sono altri laboratori in città. E un reattore nuform in ciascuno. Quella schifezza ha intossicato Rick. Vanno fermati. Concentrati. Prendi il telefono e vai. Il reattore è giù. Alimenta l'intera base. Il telefono è lì sotto. Devo trovare un modo per superare quella ventola. E anche quei tipi. Ehi. Ce l'ho già detto. Non farti scoprire. Allora, vediamo un po'. Perché la morale si ha preso. Calma. Ho visto qualcosa. Allora, vediamo un po' di prima. Sì, non lo so, non lo so RICEMUTO CERTIAMOLO RICEMUTO CERTIAMOLO RICEMUTO CERTIAMOLO RICEMUTO CERTIAMOLO non mi becreti mai bastar va bene seconda qualcuno scopre dov'è è ancora qui non distraetevi qualcuno lo vede ma in fretta sto disattivando all'arbi e telecamere per impedire che ne arrivino a taglia i cavi sopra la ventola grazie devo riuscire a disperare la ventola ah ecco io controlli della ventola cavolo devo tenerli in posizione tira i cavi e vai e ora i cavi e ora quelli dai tira i cavi la batteria è scarica e ora ci sarà una strascorsa bene ok fotocamera video ecco qui ok il nucleo va svuotato in due due azioni il comando qui io confermo da là è il primo passo per liberarci del uniforme non ti dispiace distruggere la tua scoperta vedi come sono messo devo proteggere il mondo pronto pronto modalità manuale tra tre due fin io non c'entro sabotaggio industriale davvero nessuno piangerà qualche malato nei quartieri poveri o un ingegnere morto è un sacrificio in nome dei pericari bastardo di eh vatti su una trappola la grande cazzarola ecco come è morto lui si è morto ma sicuramente è morto c'è un altro intruso trovato d'arren rick voleva salvare delle vite e krieger l'ha ucciso finirò ciò che hanno iniziato zio aron vuoi sbloccare lo scudo del reattore da dove sei? perché? hai il telefono scappa quel reattore ha ucciso un mio amico deve essere spento per sempre mi devo aiutare zio per favore zio aron ok indietro grazie wow oddio che pazzo ok da qui da qui da qui L1 come inceleratore all'esterno ma più grande che cosa vuoi? vai vai bene devi andartene da lì puoi muoverti si scappa lungo il corridoio mi sento veramente avversi eccomi se mi facesse avversi io non sarò la che scontire non riesco a contenerla vai rispondi ragazzo stai bene? mi sento come se fosse caduto da un aereo almeno il reattore è sistemato sei quasi fuori no avevo bisogno di quel telefono e ora come faccio? segna ragazzo la roxon sarà lì a momento sono già lì arrenditi la tua corsa finisce qui hanno l'ordine di catturare perchè? cosa voglio? viaggio non lo so e non importa devi solo scapparti l'attacco coordinato i soldati roxon usano tecnologie anti venom con proprietà inibitorie che privano miles delle tecniche venom per un periodo bastardi pezzi di merda colpito avanti così bella me quell'arma ha perso di merda e nel mirino sei sbacciato spider-man abbiamo l'ordine di farmare il ragno cazzo cazzo maestro sono stato impulso dal sistema dammi un attimo ti tiro fuori di lì basta prova a rialzarti andiamo prima che ne arrivino altri wow che sistema di occultamento ma come vai vai non vai a sinistra io a destra si sente male ice molto male tranquillo possiamo farcela le guardie sono in meno i miei guai inizieranno quando saremo fuori da qui ora Krieger ci vuole morti rialzarti a a E' un'altra cosa! Ok, il treno è quasi arrivato Preparati Devi restare nascosto Non fidarti di nessuno E non toglierti la mano Hai capito lo zio Fa supereroe anche lui Zitto, zitto Non faccio stare te Devo ancora trovare Finn La tua amica è Tinker Eh, ma va Ecco perché sei tanto coinvolto Non è solo questo Ora Io devo proteggere New York Usa Finn Dille che vuoi unirti all'Underground Hai detto di tenere la maschera Non devi dirle che sei Spider-Man Avvicinala come ami Troppo intelligente Ah, non credere Siamo più stupi quando teniamo a qualcosa Come lo sei tu proprio ora E se le dicessi chi sono? Io l'ho detto a tuo padre Credevo mi appoggiasse Lo speravo Era mio fratello Invece mi ha tagliato fuori Se me ne fossi stato zitto E un giro in città Sì Livello incrementato Livello 8 Beh, no Sì, no Livello 9 Più un puntabilità Sai quanti follower hai guadagnato Da quando l'abbè online? Roba da non credere Ho fatto qualche calcolo Allora, vediamo Abbiamo un puntabilità da sbloccare Vediamo un po' cosa ci possiamo mettere Esce anche C'è anche questo Quando elimini un nemico Con un attacco Venom Il colpo finale Non consuma occultamento Se no ci sarebbe anche Raddoppia la durata Dello stordimento Ah, incrementa l'aria D'effetto dello schianto Venom Eh, perché no? Se no ci sarebbe anche questo Consente di accumulare Il secondo colpo di grazia Eh, due colpi di grazia Magari Possono tornare utili Allora, gadget Vabbè, abbiamo Quello lì Però Attualmente non possiamo Potenziare niente Di gadget Forse dovremmo riconsiderare L'idea degli annunci pubblicitari No Certo No, ovviamente Dicevo per dire Hai trovato il telefono di Finn? Sì Ma si è sciolto Quando ho prosciugato Un reattore in uniform Ma cosa? E non sei morto? Ci sono andato vicino Ho liberato Ho liberato tutta l'energia Con una specie di esplosione È una fortuna Che non si è crollato tutto Devo iniziare a prendere appunti Per stare dietro ai tuoi poteri Ora Qual è il piano? Zio Aaron Mi ha consigliato Di parlare con Finn Per entrare nell'underground E rubare il new form Così non potrà usarlo Per chissà cosa Cioè Dovresti mentire a Finn Già Ma non ho altre piste Sai cosa ci serve? Niente liste dei pro e dei contro Una lista dei pro e dei contro Senti, ora devo andare Certo Beh, buona fortuna Chiama se hai bisogno Ah L'underground si è impadronita di quel cartellone Non sarà Ci risiamo bella gente Una nuova catastrofe Esplosioni Un ponte crollato Colpi di arma da fuoco Nel traffico dell'ora di punta Grazie al cielo Non ci sono state vittime Ma non possiamo sperare Sempre nella fortuna E se fosse accaduto Qualche giorno dopo Durante la cosiddetta Tempesta del secolo Con cui il notiziario Delle 5 ci sta martellando Dalla catastrofe Saremmo passati Alla calamità Ora I responsabili sono molti Inclusi quei forfanti Dell'underground Che prosa votare un cartellone A scopo intimidatorio Pubblicizzano un album di Natale Allora andiamo Scopo di Ardenground Spontabilita niente Fammi vedere Le missioni Tre missioni Queste qui Allora c'è lotta politica No Ok No 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 Allora c'è Allora c'è Allora c'è Allora c'è L'underground L'underground La pubblicità Non mente Cartelloni Non avete niente Non avete niente di meglio da fare Eccoli 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 Sei già morto E chi lo dice Non puoi fermarci Spide him No Vola vola baby Vola vola baby Spide him E finirei 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 Amichevole Spiderman Di quartiere E uno Campagna pubblicitaria Dell'underground Zero Allora Prossima missione Furti a negozi Di quartiere Chiusura Del fist Comunicazioni Interiore Di segnale Sono bloccato Sulla facciata Di questo edificio Facciamo questo Un lavavetri È bloccato Su un palazzo Devo correre Ad aiutarlo Ok allora Per il momento ragazzi Io mi fermo qui Per questo nuovo gameplay Di Spiderman Miles Morales Perciò come sempre ragazzi Se vi è piaciuto Questo nuovo gameplay Mi raccomando ragazzi Lasciate un like Mettete un bel mi piace Naturalmente Come sempre Continuate a mandare Il vostro supporto Continuando a seguirci Iscrivendovi al nostro canale A presto Per un nuovo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti